buongiorno a tutti allora oggi video particolare dalla mia camera da una posizione un po particolare vi faccio vedere alle mie spalle c'è un po di casino comunque c'è il posterone dell'interista eccetera eccetera spero che mi si veda mi sembra di sì magari non è proprio però vedo che mi si vede bene quindi facciamo sto video dalla mia camera tanto per cambiare un attimino un po incasinata c'è anche la mia camicia appesa quella che utilizzo giusto ogni tanto per andare a fare la spesa e niente letterina letterina del mio collega nerazzurro con cui ho fatto anche una diretta sono stati carinissimi a farmi fare una diretta con loro del gruppo il punto g nerazzurro occhi nerazzurri su facebook e diciamo che riguarda l'inter in generale ho messo appunto la maglietta di pagliuca perché quando si parla di inter in generale eccetera metto questa quando l'inter non prende gol metto questa se l'inter anche se vince prende gol metto quella nerazzurra e purtroppo me la maglietta nerazzurra ultimamente la sta usando spesso fortunatamente anche se prendiamo gol vinciamo ogni tanto di tanto no ogni tanto sì comunque bando alle ciance ciancia alle bande andiamo a leggere quello che ha detto io mi chiedo dice il caro collega ma vorrei avere una risposta da quelli che marotta e conte sono due infiltrati venuti per distruggerci come mai conta messi insieme un gruppo unito di giocatori che hanno preso una buona consapevolezza dei propri mezzi per puntare allo scudetto punto di domanda come mai marotta con la società stanno tenendo lontane le polemiche che nascono dagli attacchi mediatici della alla società perché effettivamente i giornali continuano ad andarci contro eccetera merito dei giocatori che sono bravi punto di domanda diranno ma non sono gli stessi giocatori acquistati dal goppo marotta dall incapace ausilio e dai tirchi cinesi a proposito di cinesi ma come mai stanno selezionando un compratore che assicuri una continuità al progetto piuttosto di scappare come il cinese del milan perché tutto questo ci venga spiegato il nesso perché questa squadra dovrebbe essere a metà classifica questo coerentemente ai loro ragionamenti i vari conte out marotta out sunning out ci potrebbero dare una spiegazione plausibile del perché il boicottaggio di conte marotta sta sportivamente fallendo perché perché quando uno decide una cosa e questo è un mio pensiero personale no quando tu hai a testa sulle balle una persona così a pelle ti sta sulle palle anche se questa persona magari è una brava persona eccetera 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 però a te proprio non lo puoi sopportare non lo puoi vedere è un po quello che è successo nel 2006 con l'IPI e la nazionale italiana che tanta gente speriamo che l'Italia esca subito perché non si può vedere quella squadra piena di questi mafiosetti eccetera che cosa hanno combinato e non vogliamo vedere l'IPI e non vogliamo vedere di qua allora a parte che i giocatori della juve erano una cosa e la società juve un'altra io cerco sempre di tenere separate le cose perché poi dopo ti può stare sulle palle un giocatore di una determinata squadra eccetera ma quello che loro fanno in campo è quello che loro fanno in campo se tu giocatore sei uno che ti tuffi eccetera allora si ti possa attaccare ma se la tua società o meglio una certa persona si è messa a fare i magheggi loro cosa c'entravano loro entravano in campo e giocavano poi è logico che te ne rendi conto se un arbitro chiude sempre un occhio quando fai un fallo non ti ammonisce mai eccetera le domande te le fai poi magari col fatto che sei in quella determinata società sei abituato a fare il marchesino del grillo e allora dici va bene siamo noi e per quello ci rispettano hanno troppo rispetto un po' come adesso che tutti attaccano bonucci perché fa quel cazzo che vuole anche nell'ultima partita era lì in panchina a dirgliene di tutte all'arbitro era sempre lì a protestare nessuno che gli ha tirato fuori un bel cartello rosso gli ha spedito sotto la doccia l'avesse fatto il terzo portiere dell'inter eccetera lo buttavano fuori bernie è stato espulso due volte e ha fatto un quindicesimo un ventesimo di quello che ha fatto il signor bonucci per tutta la partita martedì scorso però è bonucci è un po' come quando baresi entrava alla viva al parroco quello che prendo prendo 9 su 10 prendeva il giocatore ma tanto non gli fischiavano mai una beata giovanna ricordo un intervento che fece con la nazionale su matteus in un italia germania è entrato secco meno male che matteus è riuscito a calciare un attimo prima e saltarlo perché sennò gli spaccava letteralmente tutto perché è entrato secco in io ti prendo se prendo la palla bene sennò amen chi se ne frega perché francuzzo era così braccio alzato interventoni scivolata e quello che prendo prendo tanto gli amici non gli diceva niente perché ormai aveva l'immunità ecco è un po come altri giocatori è perché ci sono quei giocatori che hanno l'immunità comunque torniamo a bomba la questione purtroppo quando uno ti sta sulle palle ti sta sulle palle quindi anche se sta facendo bene eccetera sei sempre lì a guardare la pulcettina la cosettina e si ha fatto bene però si ha fatto bene però poi fa male ecco lo vedete che c'ho ragione ha sbagliato i cambi ha sbagliato qui e marotta uguale marotta è lì che sta facendo il dirigente spiegano com'è la situazione il problema sapete qual è che poi vedono il pari san germain che prende nei marco i soldi di pinco pallo che sono praticamente del fratello del cugino del proprietario del club che poi ancora lui è perché lui praticamente cosa fa è come se io sono multimiliardario prendo una squadra non posso usare i miei soldi do i soldi a tizio perché poi mi compri il giocatore dicendo però sono stato io a comprarlo non è la società glielo ho regalato io alla squadra però hanno usato i soldi niente poi vedi il manchester city che fa quel cavolo che vuole poi gli danno la multina perché va al tas deve stare due anni fuori dai maroni è andato al tas e non solo non va fuori dai maroni ma quindi la gente si arrabbia perché dice suny fattura un miliardo all'anno non ha 200 milioni da investire nell'inter e comprarci un po di giocatori no perché non può perché siccome noi siamo l'inter se fa una roba del genere succede come quell'anno che siamo usciti col berceva perché metà degli acquisti non li potevi usare in europa giocavi con medel melo e un altro che come giocare con gagliardini ranocchia eccetera e pinamonti in attacco poi è logico che esci perché se non puoi usare lucaco non puoi usare devrai non puoi usare scrignia devi usare d'ambrosio ranocchia e cola rovin difesa capisci che quindi la gente attacca perché ormai ha deciso così finché conte sarà all'inter quest e anche se il conte ci fa fare il triplete l'anno prossimo avranno da dire se conte dovesse fare un triplete là non succede ma mettiamo caso che l'anno prossimo gli fanno una bella squadretta tengono i migliori gli prendono quei due giocatori che gli servono in più per migliorare la squadra gli prendono un paio di riserve da libidine tipo un vice lukaku che sia ottimo che non lo faccia rimpiangere se non gioca e un centrocampista che abbia anche i dettagli i dettagli le cose di gioco giuste io uno scambiettino locatelli sensi magari visto che sensi è sempre rotto io sensi guai però ahimè mi gioca una partita sì e cinque no quindi per questo la gente è così quando uno decide decide lui e lui ha perfettamente ragione però purtroppo la questione è questa che uno è parte da un presupposto suo e continua anche se tu gli dimostri ciccio guarda che però è vero ti sta sulle palle però sta facendo bene no se noi a fine anno arriviamo secondi come al solito e malauguratamente dovesse vincere lo scudetto il milan perché magari il derby lo perdi perché magari giochiamo senza bastoni barella e brosovic perché è probabile sono tutti e tre ammoniti e difidati con la lazio giallo e matematica uno dei tre il giallo lo prende giallo mi va bene se non prende solo uno dei tre perché ho una gran paura che pronti via giallo a uno giallo all'altro giallo all'altro belli già com'è che si dice quando chirurgici dei bei gialli chirurgici tra i giocatori diffidati nerazzurri pronti subito a primo fallo di barella giallo primo fallo di bastoni giallo primo fallo di brosovic giallo risolto il problema anche se un fallettino da nulla così a meno andiamo al derby e siamo già lì pronti a fare la cosa sacrifici spero di no perché ripeto io questo il derby di con di campionato visto che il derby di coppa italia hanno avuto da dire che avevano fuori tizio non so che avevano fuori ma comunque vibra c'era quando c'è ibra è la squadra è quella poi chi gioca gioca quindi io mi auguro che al derby si arrivi con le due squadre tutte e due al completo perché così almeno non ci sono recriminazioni mi mancava tizio perché se dovessimo giocare il derby con gagliardini erissen e teoricamente vidal usilsi al posto di erissen sensi gagliardini e vidal non lo so poi con non so chi metterà granocchia d'ambrosio con scrignia spostato dall'altra parte o d'ambrosio dalla parte del colaro perché se manca bastoni non è che ne hai molti altri però ripeto la gente purtroppo ama avere un'idea quindi se uno gli sta sulle palle va avanti con quell'idea anche se questo dimostra che effettivamente io preferisco quelli che mi dicono guarda gigi da me conte sta sulle palle però se ci fa vincere sono contento non vado con invece no loro vanno contro sono interisti che vanno contro perché perché no per conte non si può vedere con però quando abbiamo avuto tra pattoni erano tutti felici e contenti quando è arrivato l'ipio che bello è arrivato l'ipi io ho detto buh poi l'ho visto fare i cambi nel derby con il milan che abbiamo perso 2 a 2 2 a 1 che ha fatto di quei disastri che metà bastavano l'ho visto perdere 4 a 0 con la fiorentina detto ho pensato adesso moratti lo caccia no il col il perché ogni tanto moratti il coglione lo faceva e lo dice anche adesso che ha sbagliato a cacciare simoni ha sbagliato a fare quella cosa lì ha sbagliato con ronaldo ronaldo voleva restare all'inter cambi cooper tanto di allenatori come cooper ne trovavi quanti ne volevi ma giocatori come ronaldo no anche perché dopo i quattro anni che ha fatto flanella gli altri dopo infortuni non ne ha avuti più quando era al madrid e ha vinto quello che ha vinto lui cacciava cooper perché è un con poi anche con lippi mi fa andare baggio alla al bologna tiene lippi per cacciarlo alla prima di campionato perché giustamente ha detto le cose una volta che ha detto le cose giuste invece cosa fa anziché appendere al muro i giocatori dagli tanti calci nel sedere ha cacciato l'allenatore e abbiamo fatto un'annata di m come al solito comunque ragazzoli fatemi sapere voi cosa ne pensate io quando sento parlare antonio è sempre un piacere la persona che perché è sempre obiettivo preciso eccetera se qualcuno ha da dirgli qualcosa in maniera educata e ha un parere diverso glielo spiega non è una persona che è logico che lui non abbia i partiti presi quelli che sono così e vanno avanti per quella strada lì anche se c'è un muro davanti e ci continuano a sbattere contro ma loro devono avere quell'idea lì poi che conte abbia i suoi difettucci lo sappiamo però è un allenatore che ti tira fuori il sangue dalle rape ti fa arrivare ai giocatori che se non ci fosse lui andrebbero in altre squadre perché è lui che dà la garanzia a quei giocatori vieni a giocare nell'inter l'inter lukaku l'ha voluto lui e dobbiamo star ringraziarlo di aver avuto un giocatore come lukaku poi c'ha le sue idee qualcuno dice non fa giocare i giovani bastoni sta giocando bastoni con la juventus ha fatto una cazzata di quelle magistrali che se ci fosse stato un altro allenatore lo spediva in tribuna per un mese invece gli ha dato subito fiducia con la fiorentina già venerdì perché perché le cazzate le facevano a tutti le faceva bergomi quante volte bergomi ha passato addirittura la palla un attaccante tra cui in un derby che stavamo vincendo 2 a 2 2 a 1 lui giustamente ha passo a cosa ha fatto ha passato la palla versa per fargli fare il gol del pareggio con l'interne record eravamo sul 3 a 3 a firenze cosa fa da passa la palla a borgonovo per fargli fare il gol perché perché non guarda lui c'era il calcio di punizione l'ha passata indietro a zenga senza guardare in mezzo nella traiettoria c'era borgonovo che ha ringraziato e ha segnato poverino borgonovo che ahimè non c'è più ragazzo io come al solito mi sono dilungato ma sapete che quando ci sono queste cose qui io mi fervoro e poi comincio ad andare a ruota libera spero che questa situazione un po precaria vi piaccia spero che il video sia venuto bene magari li farò ancora quando è giorno perché c'è un po di luce quando è sera torno a farli di là nel salone detto questo ci vediamo ai prossimi video vi saluta anche la mia camicia vi saluta anche il coso di don gg inter ciao